Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Nissa ASMR, oggi continuiamo con la lettura del mercante dei libri maledetti di Marcello Simoni, siamo alla parte seconda della filosofia occulta, paragrafo 18 se siete nuovi sul canale io vi invito ad iscrivervi, ho pensato se riesco ma mi impegnerò per farlo di registrare ogni giorno da adesso in poi e di postare un video in cui leggiamo questo libro e io spero che vi possa piacere, vi possa rilassare, magari la sera accendete una bella candela profamata come ho fatto io qui e magari bevete una tazza di tè o qualcosa di simile e un po' una cioccolata calda, anche quella molto buona e io continuo a leggere questo libro, se siete nuovi sul canale io vi invito ad iscrivervi se vi va e mi farebbe molto 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 piacere anche solo una singola iscrizione, vale moltissimo e poi lasciate un like se il video vi è piaciuto e un commentino se volete appunto parlare, discutere su ciò che sto leggendo oppure se volete magari suggerirmi qualche progetto video o darmi qualche consiglio allora iniziamo l'uomo in nero era scusciato via dalla calca svolto in un vicolo che fendeva gli edifici della piazza guardandosi alle spalle per verificare che se il francese fosse le calcagne quando si trova a distanza ragionevole del mercato tolse il velo che gli occultava la faccia scoprendo dei limitamenti nordici aveva mascelle robuste, un naso affilato e la bocca atteggiata in una smorfia severa la pelle del viso era tirata come la corteccia di un albero si aggirò fra le canne, tornando un po' volte sui propri passi per assicurarsi di non essere seguito quando con certo l'averebbe fatto perdere le proprie trance si sporse da un canale e invece c'era natura contro di accostare l'imbarcazione si avvicinò lasciandosi dietro una scia ballucinante di acqua verdastra l'uomo salì a porto, valvoli o qualcosa, sedette a prua il barco Iolo accostì e ribadì la destinazione per assicurarsi di aver ben compreso le parole del passeggero al ponte di Rianto, cantile no l'uomo annui e distorse lo sguardo scrutando il via vai sulle panchine umide si premette con delicatezza al fianco destro doveva, quel francese era un osso duro, pensò per poco non gli aveva spensato il braccio la gondola attraversò il sestiere di San Marco collata dall'ingrespatore luccicante dei canali e scivola lungo il canale grande fino ad aggiungere Rianto a costa vicino al campo San Bartolomeo con il passeggero, la barca si affancò alla riva facendo con sé lo scafo contro la sponda pagato al mucchiere, l'uomo scese a terra la sua destinazione era la casa di Atecoste Autonicus l'ipote dell'alitanziere supremo di Atisbona un luogo rappresentato dalla borghesia grassa che investiva nel commercio con Costantinopoli nella zecca veneziana ma non solo era anche un punto di ritrovo ben altro per ben altro genere di affari si lasciò alle spalle il campo San Bartolomeo e proseguì verso la residenza di Enrico Stratonicus un palazzotto che attorviggiava sugli edifici circostanti e a cui si accedeva attraverso un loggiatto di pietra d'istria al chiaroscuro del colonnato stazionava un trappello di scherri ben vestiti l'uomo nero si fermò davanti a loro senza salutare devo parlare con Enrico Stratonicus disse si invece avanti al piatto del gruppo ragazzone a loro putto al volto calabro indossava un cappuccio a foggia una giornata di velo d'anero e il campale di cuoio alti fino al ginocchio esibiva al fianco una costantina germanica la Saxe Barbi riconoscerò il nuovo arrivato accernò l'inchina e rispose con deferenza è uscito per affare mio signore tornerà in serata e a Rudolf il suo segretarius le alvincerò di con la finestra del palazzotto affacciata sulla loggia e nella sua stanza l'uomo nero a lui con gli due sorviglianti attraverso il colonnato e torcò l'ingresso superò due rampie di scale dai gradini di coggio e lo condusse a una porta familiare bussò risolvano dall'interno una voce maschile chi è? porto buon pane e ottimi consigli dall'altra parte non vi fu risposta lo scia si aprì all'interno dell'anticamera si trovava Rudolf un vecchio segalino con lunghi capelli neri riconosco subito il visitatore siete voi Slavnik? entrate, non c'è nessuno Slavnik parco la soglia chiudando la porta alle spalle sopra l'anticamera al seguito dell'ospite i cionzi non vanno appena a novinoso si tolse quel cappello si accomodò su uno scranno portando di nuovo la mano al fianco Rudolf notò il gesto siete ferito? non è niente, passerà presto il segretario è sonnui sedete su una branda ricoperta di scartoffe appuntellando i gomiti magri sulle ginocchia allora, li avete trovati? sì, l'ho appuntato, ha detto il vero avevo un appuntamento proprio oggi alla Basilica di San Marco li ho spiati vivendo in Arbonne ancora vivo il libro? ce l'ha ancora lui a quanto pare Conte Scalò è caricato i gnocci da dolito di recuperarlo eccellente Rudolf batte il pugno sul palmo della mano dopo tanto tempo li abbiamo trovati con il libro per giunta ma ditemi sapete dove è diretto l'ispanico e dove si nasconde quel cane di Viviani? non l'ho scoperto con gli stramling in ritardo dal dover ammettere un ruolo davanti a un subalterno di Request Eutonicus un uomo di Ignazzi da Toledo un uomo di francese riuscito a cogliere in sorpresa sono dovuto fuggire prima che la conversazione avesse termine li hanno conosciuto? no, per ora saranno di essere eseguiti saranno all'alerta Rudolf scattò a piedi e prese il gesticolare nervosamente e adesso come farete a scoprire dove hanno nascosto il libro? non è affar vostro se la fricola tacitò con un'occhiata che non ammetteva repliche fate chiamare la punta ditele di organizzare un secondo incontro con il conte Scalò in modo che io possa interrogarlo di persona d'accordo il segretario è seguita c'è un dimitito dovrete stare attento però il rico Scalò è una cosa di Venezia non possiamo concederci il lusso di commentare a loro sapete bene come la pensa riguardo Dominus il vostro signore come vi ho detto non è affar vostro è uno scerrozzolmetto scriviamolo con proteffia vuole mi dia deve accortarmi con la punta e la sopra inserlo io ho aperto c'è già la terra ancora più di sensi ma il volto iniziava a riappostare colore finalmente riaprì gli occhi disorientato ridò le pupille finché non vede sopra disse il soffitto trato dalla basilica si trovava sotto la cupola dell'ascensione del Cristo a causa della vertige sembrava dovesse precipitarli attosso un momento all'altro Ignazio che nasce di lui gli reggeva il capo con premura bevi ti farà sentire meglio disse porciandogli una porraccia dopo aver sorseggiato l'acqua Uberto cercò degli arzati ma con coltato da un capogiro per di più restare salito sul freddo pavimento di San Marco gli aveva intorbitito le membra si polpò la testa dolente cos'è successo porfuglio un uomo ti ha spinto e sei caduto quale uomo è quello che vorremmo scoprire Ignazio lo prese per la spalla ora forza prova di alzarti Uberto riguadagnò lentamente l'equilibrio si rimise in piedi sicuro di stare bene chiese il mercante ha dato una bella aggiungata tutto bene almeno credo il conto scalò che fino ad allora aveva attaciuto si fece avanti il suo volto non era più ilare anzi appariva turbato ti ricordi qualcosa dell'uomo che ti ha spinto non molto il ragazzo grottò alla fronte sforzandosi di ricordare era vestito di nero grosso come un bue non l'ho visto a un faccia speriamo che William abbia avuto fortuna e si augura Ignazio proprio in quel momento il francese fece ingresso nella basilica lo sguardo crociato si avvicinò allargando le braccia e smanito come fantasma disse mi spiace il mercante si era buio siamo in un bel guaio che poteva essere quell'uomo voi conti a nutrire i sospetti una persona del mio raggo ha sempre nemice da cui guardarsi lo scalò si grattò al capo ma non so immaginare che possa nutrire interesse per quanto stavamo dicendo perciò dovremmo stare attenti su ciò insegnandoci vorremmo che forse sarebbe stato saggio abbandonare l'impresa sul nascere ma lo sarebbe in dormo ormai l'anguriusiva e poi avrebbe ritrovato Vivian accarrezzandosi la barba si rivolse ad un perto in ogni caso non sono più sicura di volerti portare con me la situazione è cambiata non è sicura come credevo magister non può dirmi questo se l'anni al ragazzo ho visto più cose in due giorni che in tutta la mia vita prometto che non vi sarò dentro al ciò vi prego vedremo Ignazio lo osservò dubbioso mentre la parola magister gli fluttuava nella mente generando disagio poi si rivolse allo scalò accetto l'incarico manca però di sapere dove incontrerò Vivian dell'Arbon a quelle parole il conte pareva abbandonare in sicurezza estrasse una scarsella dettinnante da sotto al mantello e la borsa al mercante pagamento in grossi veneziani come al solito questi adesso e nel doppio la consegna prima di continuare si accertò che intorno non vi fossero tarsi a spiare padre Vivian vi attende alla pazienza benedettina di San Michele della Chiusa tra Torino e la Borgogna state molto attento Ignazio consentì riponendo il tenero nella pisaccia so dove si trova quel luogo partirò domani stesso era calata la notte dopo aver presenziato una nuova scena in compagnia del tesco e di altre eminenze il conte Scalo pensò di concedersi qualche ora di svago verso mezzanotte si è a bordo della sua cuntura avvolto da un mantello grigio il par di Gigi guardano in quel posto che sai ordina il conducente ho bisogno di tirarmi sul morale e l'occhiare gli rivolse un sorrisetto complice e prese a remare la condola uscita ai canali di rianto scivolando tra panchi di foschia che alleggiavano a pelo d'acqua abbandonarono i gentilizi avventurandosi in una zona non molto distante a palazzi e ponti di pietra si sostituirono edifici di legno argilla casi di mercanti artigiani usurai i rintocchi di San Marco risonavano ancora nititi ma le fianco e le lunghe canali iniziavano già a tiratarsi perdendosi in un'oscurità sempre più tensa a tratti inviolata il natante vendette la cortina lattiginosa lasciando dietro il suo passaggio un filo d'acqua tremola accosta davanti a un palazzo anonimo da cui fuoriuscivano musiche resate di fanciulle solo allora il conte parve scusciare l'amici piante stato di sonnulezza attesa che lo scafo si fermasse quindi sbargò sempre a polto nel suo mantello mi raccomando Gigi aspettami qui senza attendere risposta lo scalottrò le portelle far con angusta anticamera ragionse un salone circondato da pareti rosse l'odore del vino si mesceva i profumi delle punte in tenta sull'azzare patriziano d'ampie seduti ai tavoli o stregati sul lettino sentì la tensione della giornata abbandonare lo stomaco scivolare giù fino alle caviglie in breve fu completamente libero dagli affanni non pensava più all'uomo nero comparso nella gritta di San Marco dopo tutto che aveva da tenere non era certo un semplice plebeo lui era un avvocador del comune faceva parte del consiglio di Quaranta mezzo tuzzino di passale insiliati nei feati di Costantinopoli gli doveva un'obbedienza persino il doge lo riferiva penso agnezzo da Dolido di le poche ore il mercante sarebbe partito verso le Alpi e presto lo terventore sarebbe stato suo ma ora ora basta rimuginare a tempo di svagarsi si guardò intorno mentre gli appetiti prendevano il sopravvento attraverso la sala con crescente di sepoltura riconoscendo un monte delle rocce che incrociamo vide un nipote del doge un ricomanzionario maenziano entrambi al dici intende danzare contro appello di ragazze seminute li salutò con discrezione i due ricambiarono un mutigennio del capo in quel luogo nessuno usava chiamarsi per il nome passo oltre e raggiunse la poltrona in un'acqua tranquilla della sala subito una coppia di putti gli si affaccò un'amore a una piuta giovanissima gli chiesero quale delle due preferisse o se desideravano trattarsi con entrabbe le conti gettò dietro la testa sorrise e dichiarò che prima di scendere avrebbe dovuto controllare la merce così dicendo infilò le dita sotto il loro conno e iniziò ad accarezzare e nessuno di voi mi portava a bere so via non volevate prendere il figuro di me in quel mentre una terza donna si accomodò al suo bianco porciandogli una coppa di vino il portamento era raffinato quasi aristocratico ma gli occhi neri e la bocca fermosa parlavano fin troppo dei suoi veri talenti indossavano abito color porpora aderente ai fianchi e un luno allunghi piedi una generosa scollatura esibiva le rotondità di seni la donna portava sulla spalla una scimenta nera omaggio di un mercante di Alessandra d'Egitto un donna esotico per una mestra d'amore sorrise malinziosa andate pure ragazze il signore già occupato con me dopo averla riconosciuta l'obbio a un uomo la invitò con un gesto a comodarsi accanto a lui al dilia non permette a nessuna donna di avvicinarmi ancora un po' inizierò a pensare che sei gelosa se vostra grazia non gradisce la mia presenza non ha chiedere dirlo gli sussurrò all'orecchio sferandolo con le labbra in caso contrario resterò per il suo vicino e le due punte si arrissero e si allontanano in cerchio di altre clientela resta l'indiglia sei bene di essere la mia prediletta e il contello carezzò il col ritacchiando e poi ormai sono rimasto solo lei gli trattene la mano prima che gli scivolassi sul seno non qui mio signore sospirà seguitemi in un luogo più appartato in modo che possa soddisfarvi come si conviene si posto la lingua sulle labbra stasera sono appena di capricci al di là lo fece alzare e lo condusse il piano superiore del bordello oltre a passare una porta inchiesa da cui uscivano sussurre i vocini e gemiti di piacere ed entrerano in una stanza poco illuminata e intresa in essenza inebrianti il conto si accomodò sul porto del letto le coperte non erano certo disfatte come accadevano i casini di periferia mentate e profumate con facenti una casa d'appuntamento per clienti facoltosi Antiglia lascia andare la scimietta e presa a danzare davanti allo scalò l'animale si arrampicò in cima tra esplodigli rammicchiandosi in silenzio lo appunto porta le mani i piedi e afferra i libri della festa e li sullevo lentamente scoprendo le caviglie e le cosce e i vetri quando fu completamente in onda si avvicina al conto e gli si sente sulle ginocchia l'uomo invece scivolare le mani sui segni e poi sui fianchi Antiglia serve padrona gli porse un calci di vino bevete mio signore bevete perché il vostro piacere sia ancora più intenso il conte prese la coppa la portò le labbra e beve un vino a svuotarla poi la lasciò cadere vicino al letto si corregò ancora del sapore amarogno e non rimasto in gola sopra di lui Antiglia gli stava sfilando le bracche con lo sguardo colmo di promesse lui si occhiese gli occhi per questo non ciò che sarebbe eseguito ma proprio allora l'incitazione se venì gli suoi miembra si rilassarono diventarono piacchie insensibili la lingua fu pervasa da una strana formicolia e l'avente iniziata a nebbiarsi sconcertato da quella strana sensazione il conte cercò a spiegazione del mondo della puta Antiglia cosa mi sta succedendo le chiese cosa mi hai dato da bere ma Antiglia cavallce di sopra che lui rimaneva in silenzio i suoi occhini lo fissavano verini traditori il conte non poteva fare altro che fissarle a sua volta e li vede diventare stretti sempre più stretti fino a scomparire nel polio dell'incoscienza fuori dal portello il corpo di Cicin galleggiava senza vita accanto alla condola Uppertor astriato sul suo cecilio nella stanza di un albergo di Venezia quella notte non riceva proprio a chiedere occhio incolpava la navigazione dei giorni precedenti trascorsi per lunghi tratti e sali dormiviglia il viaggio era scombussolato dalla sua condizione del tempo non sapeva più quando mangiarne e quando dormire era un fenomeno consueto assicurato a Ignazio Uppertor ha cresciuto trascorrendo le ore del giorno in accordo con la vita monastica scandizzare le funzioni del mattino e del pomeriggio e della sera e la questione del tempo si sarebbe abituato in verità il giovane non aveva ancora smaltito il turbamento per l'incidente mattutino gli sarebbe servito tempo giorni per allontanare dai suoi incubi la sacova minacciosa dell'uomo nero che razzava verso di lui ma non si era azzardato a parlare con Ignazio e convinto che il mercante non avrebbe tollerato le sue laventelle e l'avrebbe rispettito senza esitazione nel monastero in cui l'aveva trovato tossì e il petto tolleva per il corpo ricevuto e gli rendeva faticoso respirare aveva taggiato anche su quello come sul grosso lito nero comparso sul costato si strense le braccia al petto e cercò di dormire il giorno semmente si sarebbe sentito meglio prima di chiudere gli occhi o starvo i suoi compagni quell'alma era da pari sprofondato nel sonno ma ogni tanto si torceva fra le coltri probabilmente tormentato dai sogni piacevoli Ignazio invece stava immobile e era annicchiato su un lato forse neppure lui dormiva il suo corpo emanava una strana attenzione come se un cromo di pensieri levitasse sopra di lui nell'attesa di prendere sonno Oberto ripensò la destinazione del viaggio la pazia di San Michele della Chiusa era un monastro piantino arrugato su un monte chiamato Pirichiano a un giorno di marcia da Torino sebbene l'ha visto l'aspetto di una fortezza era il punto di passaggio dei pellegrini diretti in Francia per lo suo mola albercavano più di 600 monaci di varie nazionalità tra cui spagnoli borgognoni italiani e tra questi diventano al po non sapeva altro al riguardo la cosa che più non collusiva era il contenuto del libro un testo sacro aveva chiesto qualche ora prima al mercante no gli era stato risposto e allora di cosa si tratta aveva insistito il giovane gli occhi di Ignazio si erano stretti due fessure verdi intimidatorie di argomenti che non potresti comprendere Oberto era stato deluso da quella risposta ma il mercante sembrava deciso non parlerne a parlare la notte veneziana trascorse letta per l'insonno Oberto ma ancora più letta trascorse per il conte di Coscalò il conte di Sviglia di soprassalto avrebbe continuato a dormire volentieri se non fosse stato oscillato da uno scratevole bruciare lo stomaco dove avrebbe avuto qualcosa di rancido prima di addormentarsi il reno appetito faticava a pensare e a evocare i ricordi le membre erano addorbitite come fosse rimasta a lungo una posizione non naturale cercò di aprire gli occhi ma non ti riuscì era stato pentato e le mani erano bloccate legate ai bracciali di una sedia ma ciò che il pello spaventò fuori le gambe immobilizzate a una sorta di cilindro metallico che colmugnava l'altezza delle ginocchia in una svasatura freddo e inamovabile e quel sinistro contenitore si fletteva su dei calcani formando una sorta di alloggiamento per i piedi nella mente del conte si stagliò l'immagine di un pizarro stivale di ferro per quanto si sforzasse non riusciva a immaginare cosa potesse servire il bruciore allo stomaco lasciò spazio alla nausea generata dalla sensazione di impotenza l'autorevole Enrico Scalò avvocato di Venezia lo provoso dal panico avventiva il freddo umido sentore di muffa non si trovò certo nel suo pazzo di rialdo ma probabilmente una segreta una motosciacquia li giunse all'orecchia doveva essere nelle vicinanze di un quartiere portuale di colpo si ricordò lo avevano drogato era stata al tiglio con la baltracca se solo l'avessi avuto per le mani in quel momento ad un tratto di un ruore di passi provenire dall'ambiente antico sempre più vicino poi un ciclo di cartine e una porta si spalancò davanti a lui uno spiforo da ravviziata lo raggiunse al volto al tiglio sei tu chiese il contenuto non certo le sillabe risuonarono come cocce d'acqua cadete in una crotta calcare la risposta uscita al buio metallica altilia non c'è la scalotta salì il suo petto fu pervosto un brulichiero aggraganciante chi siete far voglia nessuna risposta cosa volete da me continuò il prigioniero quindi esplose sono un avvocatore di Venezia per Dio non potete trattarmi così le parole furono chiedite dal buio d'un trattore suonare uno dei passi molti passi entrano numerose persone con un attazzino o più che dimensioni poteva avere quel luogo aggiudicare i rumori i convenuti sembravano prendere posto da una fila di scranni come una sorta di giuria cosa sta succedendo su quel sol conte siete al cospetto del tribunale segreto della Sant'Emma era la stessa voce che aveva parlato poco anzi un uomo dell'accento silavo questo incontro è stato organizzato per voi la Sant'Emma rimuginò lo scalò pur facendo parte del consiglio dei quaranta aveva visto poche volte quel nome sapeva che disegnava una congrega di matrice germanica composta da fanaggi franchi giudici o peccanti venivano chiamati non ne sapeva molto di più e certo non avrebbe mai immaginato che ve ne fossero alcuni insieme a Venezia lasciatemi libero con me cercando di assumere un tono autoritario non sapete chi sono il mio sequestro non resterà imponito questa notte siete solo conte e privo di qualsiasi privilegio a me io non amore la voce siete solo davanti a noi lo scalò di che ne ho niente i denti la sua autorità che gli va a vista in discussione cosa volete da me si può sapere cosa avete detto stamane a Ignazio da Toledo chi se lo slavo rispondete e non mi sarà fatto alcun male non sono affari vostri il prigionario di meno le mani legate liberatemi per Dio per il vostro bene e non ci fu risposta senza preavviso due mani grosse gli afferrarono le coscelle di varie canna a modo da creare uno spazio fra i colpacci prigionati all'invoco lungo un metallico ma di spazio libero dentro quella soffia di stivale non ce l'ha molto un attimo dopo un paletto viene inquinato fra le ginocchia poi fu convicato attraverso la sfasatura dello stivale e spinto verso il basso la scorza lignosa raschio contro la pelle in onda graffiandola fino alle chiaveiglie con un gemido il conto accusa un opprimente restringimento all'interno dello stivale averte un intenso formicolio ai polpacci le gambe iniziano a pulzare come se le vene impossibilità di appare sangue fossero apprecito di esplodere il prigionario cercò di dibattere i piedi ma si rese conto di non avere spazio sufficiente per farlo l'orguglio ferito o forza la disperazione gli intero il coraggio di protestare siete un branco di migliacchi in questo modo rispondete conti vi conviene l'orbitolo slavo non abbiamo da molto tempo a disposizione cosa avete detto agnanzi da solito vi pagherò bene se mi lasciate andare se siete trascalò qualsiasi cifra sono un uomo molto ricco nessuna risposta le cosce le furono nuovamente divaricate questa volta a fatica e un secondo paletto fu introdotto fra le ginocchia sempre rivolto verso l'interno dello stivale il conto e fremette che intendevano fare non era possibile infilare altro fra i solopacci non c'era più spazio libero e il suo cusino deve rendersene conto perché abbattolo l'impresa a metà poi accadde qualcos'altro risonò un nuovo rumore uno strascchio metallico su pavimento seguì uno spostamento che era provocato da un martello proprio nel momento in cui quella parola dice pregiornamente il prigioniero un colpo picchio sulla testa del panno collocato sull'imboccatore dello stivale il conto e flette il volto pentato in avanti sfruttando i pulmoni in un grido elagerante può essere insedenti come per contare il dolore glielo invece con tale forza anche un ruolo di sangue estrellato all'estremità della sua bocca facendosi largo fra carne e ossa il paletto affondò per oltre una spanna schiacciando e spabolando ogni cosa entra al cesso in su ma il suo blizzo era appena iniziato e lo scalò non poteva vedere il terribile martello alzarsi una seconda volta non aver di là percossa il paletto fu spinto più a fondo fino a spriciolare i tipi e i talloni seguendo una bambina con il corrillo e un esempio di sangue schizzato all'esterno nella sfasatura la sofferenza fu tale che se il conte avesse potuto non avrebbe visitato ad amputarsi le gambe con le proprie mani pur di liberarsi dolori acutissimi salivano di piedi fino all'inquene senza che potesse capire dove finissero le sue mie brezze se lo stival di ferro senza cena di compassione la voce della salago non calzò parlate smettete di soffrire dirò tutto ciò che volete la fanno del prigioniero somigliava al respiro di un cavallo angorsa rispondete dunque cosa sapete dell'utero ventoro so solo che serve evocare gli angeli preferire il conte senza neppure tentare di mentire come fate a saperlo quella vive la con certo viviente in Arbonne quella scritta in una lettera mi si fa emersa dal silenzio di sottofondo un concetto sommesso che rapporti avete con quest'uomo non l'ho mai conosciuto e è stato lui a cercarmi per primo e iniziare a scrivermi e cosa vuole da voi questo viviente in Arbonne in che modo è convolto il mio azione da Toledo vi vengole con che compri un libro lo del ventoro ho mandato il mio azione da Toledo a incontrarlo perché lo acquisti in mio avice così è stabilito viviente in Arbonne non so per quale motivo gli aboggiare si alzò di tono il mercante di Toledo è ricomparso vuole venersi al compagno vogliono fuggire col libro silenzio l'accetto cavernoso dello slavo vi è proprio l'ambiente dove sono scusi vi vien parlate conti al monastero di San Michele della Chiusa profilo scalò quasi devoto le settimpe erano luce il tessuto era parte all'avanti speratamente presto avrebbe smesso di soffrire per in giro il signore non ce l'ha visto sul vostro onore sulla vostra vita lo giuro su tutto ciò che volete San Michele della Chiusa liberate le mie gambe ora vi scongiuro come desiderate conti disse lo slavo avete smesso di soffrire lo scalo faceva un sorriso abito la penta gli fu tolta dagli occhi allora io direi di fermarci qui siamo alla fine del paragrafo 22 della parte seconda del libro se siete arrivati fino a qui io vi ringrazio e ci sentiamo in un prossimo video molto presto vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e vi ricordo che da oggi ci saranno video giornalieri in cui continueremo a leggere questo libro cercheremo magari di terminarlo insieme se ci riusciamo e lasciate un like se il video vi è piaciuto e un commento noi ci risentiamo e al prossimo video domani ciao ciao